Posizione sotto controllo. 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 I nostri uomini non... Stiamo subendo delle perdite! Hanno preso il controllo di un avamposto! Siamo subendo delle perdite! 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 Abbiamo perso i contatti con un avanfotto Metti frittati, nemici individuali Molto bene, soldato Abbiamo perso i contatti con un avanfotto Metti frittati con un avanfotto Metti frittati con un avanfotto Metti frittati con un avanfotto Posizione sotto controllo Forza! I nostri uomini non riescono a fermarli Abbiamo perso i contatti con un avanfotto Forza! 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 Forza!